Esserci sempre, e questo è il motto della polizia che il questore di Potenza ha più volte rimarcato nel suo discorso in occasione delle celebrazioni per il 171esimo anniversario dalla Fondazione del Corpo, svoltesi a Potenza nel teatro stabile in piazza Mario Pagano. Ad impreziosire l'importante momento durante il quale è stato anche fatto un bilancio dell'attività svolta dalla polizia e che vede Potenza al quarto posto tra le città più sicure d'Italia, i commenti alla notizia dell'elevazione della questura del capologo Lucano in fascia A. Passaggio questo che assicurerà maggiori risorse, maggiore organico e quindi ancora maggiore sicurezza per i potentini. Oggi celebriamo il 171esimo anniversario della Fondazione, significa che da 171 anni la Polizia di Stato è al servizio della collettività, al servizio della gente. Il riconoscimento poi, la elevazione fra le quattro questure inserite nel recente decreto legge, la questura di potenza elevata a fascia A significa sicuramente un giusto riconoscimento anche per tutto il territorio. Credo che sia importante perché questo significa rafforzamento degli organici, significa dare importanza alla questura di potenza, a un capoluogo di regione che vive delle difficoltà, anche se circoscritte. Oggi è una giornata importante non solo perché si celebra il 171esimo anniversario della Polizia Locale, l'occasione mi agghiotta per porgere gli auguri ovviamente a tutte le questure d'Italia, ma anche perché, come ben diceva, arriva a pochi giorni da un'altra notizia straordinaria, almeno per la nostra questura, che è la promozione della questura di potenza a questura di rango superiore, quindi di fascia A. Questo ci riempie di onore e di orgoglio perché significa non solo riconoscere alla città di potenza il ruolo di città-capoluogo, così come è accaduto ad altre realtà italiane, ma anche premiare lo straordinario lavoro svolto dagli uomini della questura.